L'assenza del partito per cinque anni sul territorio è la principale causa dei ritardi da parte del PDL nella scelta del candidato sindaco alle comunali di Sulmona di fine maggio. Conseguenza di ciò anche la creazione di diverse anime all'interno. Alcune starebbero osteggiando la ricandidatura del sindaco uscente Fabio Federico, che in attesa di fare chiarezza e di avere soprattutto certezze ha dichiarato che la sua candidatura è sul tavolo del centrodestra. La fine anticipata dell'amministrazione può rappresentare il pretesto per Federico a non ricandidarsi? A chi ha sostenuto che dietro la regia occulta della caduta del comune si nascondeva il presidente del Consiglio, Nicola Angelucci a scanso di equivoci giudica così l'evento finale. Si è chiuso clamorosamente con una classica buccia di banana, perché così reputo questa vicenda che si sarebbe potuta tranquillamente evitare. Il futuro della coalizione per Angelucci dipenderà adesso da Federico, che si trova ad un bivio, se ricandidarsi o meno. Dovrà decidere lui le sorti future di questa coalizione, il gioco è in mano a lui, è lui che ha politicamente e correttamente la decisione finale in riferimento a questa esperienza che si è fatta, per dargli poi una caratteristica di continuità sia come persona attiva sia come sostenitore. L'importante è che comunque si determinino in maniera concreta le coalizioni e i programmi, perché la città non ha bisogno di nebbia e di fumo, ha bisogno di certezza e concretezza, altrimenti assisteremo ad un'altra clamorosa evoluzione del voto che poi non so successivamente se sarà in condizione di poter dare risposte concrete alla città. La candidatura del sindaco uscente Fabio Federico è sul tavolo del centrodestra, quella di Angelucci? Io attendo che il partito poi faccia delle riflessioni su quello che è il voto, su quello che è stata l'esperienza di questi cinque anni dove il partito è stato completamente assente e quindi adesso occorra che il partito si ripresenti in una circostanza come questa a dire chiaramente quali sono le vere intenzioni, se amministrare la città o fare finta di essere presenti con un logo per i prossimi cinque anni. Ma non penso che sia questa la competizione. Quando il partito si esprimerà in maniera chiara su questi principi e su questi concetti io deciderò che cosa fare, se dare il mio sostegno oppure praticamente lasciare ad altri la strada della conduzione amministrativa e soprattutto anche della responsabilità amministrativa.